Sper cosa posso fare aumentare la volume? Punti lotta Posso fare aumentare anche Clario Lo aspetto Chi è? No No da tutti tranne maddo kippa dove sei la mia prima palestra spero forse potrei mettere un bloc in uno posso aggiungerti un bloc in uno no non ci sono pokemon decenti chi è? no c'è il pregior! c'è spoink! ma cosa? senti è un pokemon! fa tipo scoreggia l'ho catturato! ho catturato il pokemon! ho catturato spoink è tipo un maiale! tanto che ci sono un blocco l'ho catturato è un blocco! non ci sono 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 un blocco! Cosa? Cosa? L'aggo... Ah, il che c'è bo... Che doti, che vediamo che ho dovuto scendere. Che cosa? Che! nooo chi è? MAD KEEP! Mo vieni sto MAD KEEP che mi manca! Eeeh ulta bolla fa a me con ulta vuol dire MA NO! NO! MAD KEEP! MAD KEEP! Lo ha fatto il nuvolato N'ho stiuto cuore l'ultima polla No, me ne faccio poco e 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 potrebbe bastare così avrà catturato un sacco di pokemon e ci vediamo alla prossima ciao e 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